Fin qui il nostro Gironi ha dimostrato tutte le difficoltà di un torneo ricco di squadre blasonate, di squadre ben attrezzate e di squadre ben organizzate. Ti aspettavi di essere in testa alla classifica a questo punto della stagione? Non me lo aspettavo, però me l'avuravo con tutto il cuore. E' ancora presto per dare giudizi e per fare commenti di fughe o di squadre favorite. La cosa che mi fa più piacere è che siamo soltanto la giusta. Qual è stato il momento più difficile vissuto? Il momento più difficile che ancora non abbiamo attraversato. Sicuramente arriverà. Cosa che mi auguro è che potremmo essere bravi a superarlo nel migliore dei modi. E' il momento più bello invece? Il momento più bello forse il derby con Catanzaro. Una partita bellissima, una provincia di pubblico straordinaria, giocata bene da entrambe le squadre dove noi siamo riusciti a vincerla. E poi a fine partita andare a festeggiare sotto i nostri diforsi, sotto la nostra curva straordinaria e raccogliere loro entusiasti.